Musica Let's go butchers e benvenuti a questo nuovo classi overpower in questo caso voglio farvi vedere una classe che ho fatto qualche giorno fa in streaming dove ho fatto una nuclear molto bella devo dire e in questo caso parlo del weevil che è un'arma molto sottovalutata quindi prendiamo il weevil, mettiamogli una bella camo, mettiamogli la tempesta che sicuramente fa effetto ebbene voglio parlarvi di quest'arma e di come usare quest'arma per prima cosa gli accessori che sono una cosa importantissima su quest'arma io utilizzavo estrazione rapida, calcio perché devo dire che sul weevil è una delle poche armi in cui il calcio fa veramente effetto sulla media distanza ok da lunga distanza non è un'arma utilizzabile come sapete basta vedere il danno e la portata che ha non è così forte però già con calcio si possono cercare di fare comunque dei diciamo long range da media distanza in questo caso in più oltre a questo ci aggiungo un bel caricatori rapidi peccato che non ce l'ho modificati perché caricatori rapidi? perché anche se ha 50 colpi comunque mi piace ricaricare velocemente e ritrovarmi sempre nell'azione poiché giocando in pubblica 6 contro 6 uno deve andare sempre contro l'avversario quindi corri 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 spara 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 eccetera eccetera comunque potete anche vedere dal gameplay sotto come sto giocando oltre a questo un altro accessorio che avevo messo è fuoco rapido perché ho messo fuoco rapido sul weevil? allora il weevil è comunque un'arma che ha molta cadenza e quindi con fuoco rapido magari qualche colpo in più viene espulso durante una sessione di fuoco prolungato cosa che succede comunque molte volte poiché con quest'arma challengeando spesso vi troverete ad avere uno o due nemici davanti in questo modo magari potrete riuscire a uccidere in una situazione di uno contro due per quanto riguarda le specialità come vedete sono rimasti tre punti uno è sicuramente antischeggia per evitare tripmine qualcuno che vi tira una granata a cavolo per evitare di morire comunque da una killstreak eccetera eccetera come specialità 2 sciacallo niente prestigiatore se vi abituate a giocare senza prestigiatore potrete tranquillamente giocare con sciacallo che comunque vi consente di prendere munizioni da per terra e di continuare a fare le vostre gunstreak come terzo e ultimo perk io vi consiglio maschera tattica direte perché maschera tattica anzi non direte perché lo sapete già perché maschera tattica perché le stunne, le flashbang e le scosse elettriche sono qualcosa di incredibile su questo gioco quindi mi raccomando questi due perk sono fondamentali per cercare di rushare comunque ed evitare di essere bloccati durante i vostri rush io spero vi piaccia questa classe fatemi sapere ovviamente qui sotto dopo che l'avete usata come vi siete trovati ci vuole un pochino di dimestichezza all'inizio perché non è come usare un CUDA, un WMP, un Vespero, un Razorback, un Faro è una delle armi col danno minore come vedete a 3 di danno cioè il Razorback che ne ha 4 secondo me shotta molto di più però vabbè io ragazzi vi lascio alla fine del video ci sentiamo butches se volete vedere come ho giocato vi ricordo che c'è l'episodio della nuclear con i subscriber perché mi hanno fatto la challenge dicendomi oh power vai gioca con il Weevil facci vedere se lo sai fare con il Weevil che non si vedono molte nuclear con quest'arma io vi saluto butches al prossimo video let's go ciao